Amici possessori di mirrorless, questo video è per voi. Sono qui per mettervi in guardia perché le vostre fotografie e il vostro flusso di lavoro corrono un rischio molto grave. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Questo, come potete vedere, è più o meno il nuovo setup che andremo a utilizzare quest'anno. Ho già pubblicato un video sulle novità, quindi andatevelo a recuperare. Oggi voglio fare questo contenuto per mettervi in guardia perché io imparo delle cose leggendo i vostri commenti e in particolare un commento mi ha dato un input che ho pensato di riportarvi ed è una cosa che secondo me molti stanno facendo inconsciamente senza pensarci ed è una cosa che può mettere a rischio la buona riuscita di uno shooting fotografico quindi può portarvi ad avere dei risultati che sono lontani da quello che desideravate e soprattutto vi allontana da quello che è il modo corretto di lavorare perché esiste un modo corretto di lavorare, di seguire determinati procedimenti e la mirrorless in qualche maniera ci allontana da quei procedimenti. Se volete rimanere sempre aggiornati e quindi non perdervi ulteriori contenuti che potrebbero salvarvi la vita, io vi consiglio di iscrivervi subito al canale e di lasciare anche un like a questo video e andiamo a incominciare. Ora, una cosa buona e giusta che io avrei potuto fare sarebbe stato salvarmi il commento e andare a rileggervelo, ma siccome non l'ho fatto perché sono pigro adesso andrò a ripetervi più o meno a memoria quello che diceva il commento sostanzialmente diceva io preferisco lavorare con mirrorless perché mi rende più facile portarmi a casa lo scatto ci metto meno tempo a fare la stessa cosa di prima devo portarmi dietro meno cose. Tutto giusto sulla carta, eh? Io non contesto quanto detto perché è vero la mirrorless mi permette di fare meno fatica mi permette di portare a casa magari anche esattamente lo stesso scatto però con meno cose, con meno oggetti di terze parti con meno pezzi da montare sul posto con meno cose da dovermi portare in giro quindi sono più leggero, più snello, più veloce mi porto a casa più o meno la stessa cosa di prima in certi casi. Il problema è ragionare in questo modo però perché nel momento in cui noi ragioniamo in questo modo automaticamente stiamo dicendo va bene tutta la professionalità che abbiamo accumulato nel corso degli anni adesso la lasciamo da parte perché tanto adesso ci pensa Lady Mirrorless e quindi smettiamo di portarci dietro il treppiede disastro, cioè senza treppiede un sacco di cose non vengono più e noi siamo convinti di starle facendo lo stesso ma in realtà stanno venendo peggio siamo convinti di poter fare le stesse cose magari quando stiamo facendo dei ritratti perché tanto dici io faccio la foto lo stesso con una luce schifosa tanto poi recupero le ombre in post-produzione recupero le luci in post-produzione la foto in qualche maniera è venuta fuori lo stesso sì ragazzi in qualche maniera ma non è venuta fuori bene come prima è venuta fuori in qualche maniera e noi siamo tutti contenti perché abbiamo l'impressione che ci ho messo di meno ho risparmiato tempo sì però guardate che se fate così ed è questo il punto io è questo che vi voglio comunicare con questo video se siete foto amatori il problema si pone di meno volendo perché tanto rendete conto solo a voi stessi quindi se siete contenti così pace in terra voglio dire nessuno vi dirà mai niente se siete professionisti, semi professionisti o se comunque state ammiccando all'idea che un giorno qualcuno potrebbe ritribuirvi per quello che fate però questo è un disastro è un disastro per voi a me non interessa badate bene cioè se voi lavorate in quella maniera lì significa che i vostri clienti verranno da me perché comunque ricordatevi che nel momento in cui noi siamo fuori a fare un lavoro fotografico noi siamo pagati per il nostro tempo più ancora che per la nostra strumentazione è il nostro tempo che il cliente sta retribuendo e quindi noi non dobbiamo pensare a che bello adesso ci metto di meno no, noi dobbiamo pensare che gli dobbiamo fare il lavoro nel migliore dei modi se ragioniamo in base al tempo e quindi pensiamo che bello ci metto molto di meno ma il risultato è inferiore il cliente non sarà contento il cliente vuole vedere che noi ci prendiamo i tempi giusti per fare le cose questo non significa che debba essere sempre così esistono dei clienti dove anch'io gli ho detto guarda abbiamo introdotto delle migliorie tecnologiche per cui adesso ci mettiamo di meno l'ho fatto anch'io ovviamente però bisogna primo saper soppesare le cose cioè io non applico queste migliorie tecnologiche orizzontalmente su tutti i miei clienti perché c'è il cliente pochettino più easy cliente per cui faccio meno cose che mi paga di meno e con cui ci vediamo meno spesso dove posso dire va bene ti introduco una miglioria tecnologica così io ci metto di meno il risultato è quasi uguale a prima lo posso fare non lo vado a fare sui miei clienti top però i miei clienti top vogliono vedere uno sforzo sempre maggiore da parte mia vogliono vedere che io mi porto più roba no di meno vogliono vedere che io faccio delle foto migliori non uguali e quindi da quel punto di vista andare a ragionare con l'ottica mirrorless quindi pensando tanto ci pensa la macchina tanto lo fa lei in automatico tanto quella roba non mi serve quel pezzo non mi serve il flash questa volta non lo porto le luci con gli stativi questa volta non le porto è un disastro ragazzi è un'ecatombia a livello fotografico perché state rinunciando alla vostra professionalità state rinunciando al motivo per cui il cliente vi ha chiamato perché se dovevamo farle in questo modo se dovevamo farle senza luci senza flash senza strumenti se le faceva da solo con lo smartphone è questo il fatto io vedo proprio questa cosa sto facendo molti shooting per studi di avvocati ma chi gli impediva di farsele da soli con gli smartphone nessuno loro avrebbero potuto farsi le fotografie su un muro bianco che avevano già utilizzando solamente lo smartphone perché hanno pagato fior di soldi e ve l'assicuro fior di soldi per far andare me fin lì e uno di questi studi era addirittura a Genova quindi con anche la trasferta cioè perché paghi un fotografo di Milano per venire fin lì a farti delle cose per come lavora per le cose che si è portato per le cose che ha montato per come ha gestito lo shooting e non è venuto lì con la macchinetta a fare pum 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 va bene avanti il prossimo un fotografo così non lo chiami più invece un fotografo che si porta delle cose un fotografo che monta un fotografo che ti rende evidente che non potevi fartele da solo oppure sì certo te le puoi fare da solo ti compri tutto l'ambaradana e te lo rimonti il cliente è preoccupato da una prospettiva di questo tipo il cliente non vuole doversi comprare tante cose dover imparare a usare tante cose montare tante cose tutte personalizzabili tutte diverse se invece gli facciamo vedere che abbiamo solo la macchinetta pum 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 e l'anno prossimo se la compra da solo o peggio ancora se le fa da solo col telefono cellulare è questo che dobbiamo arrivare a capire secondo me perché lavorare in un certo modo ci porta ad avere dei risultati per cui poi il cliente ci richiama e questo valeva una volta con le vecchie macchine vale ancora oggi con le mirrorless per cui il mio appello di oggi è e lo dico per voi attenzione perché se voi tutti amatori e professionisti e semi professionisti se tutti quanti ragionate solamente con la mirrorless vi affidate solamente alla mirrorless a me francamente cambia poco vuol dire che io mi prenderò tutti i clienti alti che sono scontenti di come lavorano altri fotografi a me andrebbe anche bene però nel video di oggi invece voglio farvi un regalo e questo regalo è ragionate non affidatevi alla macchina non affidatevi cento per cento alla macchina quanto meno ci sta esplorare gli automatismi della macchina capire come funzionano esplorarli nel momento in cui stiamo facendo foto per noi stessi siamo in viaggio siamo in gita allora facciamo quello che vogliamo però durante un lavoro pagato datemi retta lavoriamo come una volta facciamo vedere al cliente che mettiamo in campo delle conoscenze oltre al fatto di dire ho speso i soldi per prendermi l'ultima diavoleria tecnologica facciamo vedere al cliente che c'è della professionalità dietro che c'è della scienza dietro che ci sono delle cose che noi sappiamo e che il cliente non sa che vanno oltre al prezzo della macchina fotografica che abbiamo in mano se ragioniamo in questo modo riusciamo un po' a tenere a galla la professionalità e la credibilità della nostra categoria se ci affidiamo cento per cento alla macchina quello che succede è che a un bel momento i clienti diranno tutti i clienti diranno ma che differenza c'è tra le foto che fa quello lì con la macchina con il nostro iPhone che si è appena comprato il Sergio dell'ufficio in fondo Sergio vieni qui un momento prova un po' a fare le foto all'Arnalda vediamo come viene e viene uguale ragazzi viene uguale perché se noi non mettiamo in campo le nostre conoscenze in termini di illuminazione di strumentazione aggiuntiva come un treppiede come degli stativi come delle bandiere a quel punto veramente viene uguale con l'iPhone e con la macchina fotografica è la colpa è nostra perché abbiamo pensato di essere più furbi guardate che il nostro cliente può essere ignorante in fatto di fotografia ma non è stupido e se ne accorge dopo un po' e se ne accorge dopo la prima volta se vi state facendo pagare tanto quindi nel mio caso io non posso permettermela questa cosa quando vieni pagato tanto devi fare le cose in un certo modo il mio appello di oggi è fate caso a questa cosa state attenti a come state lavorando cercate di capire quando potete fare i guasconi e dire massima tanto io scatto con la macchina e quando invece è meglio che facciate ancora lo sforzo per portarvi dietro qualcosina per far vedere al cliente che valete i soldi che vi sta dando ricordatevi di questa cosa è possibile che un giorno i miei consigli vi salvino la vita e per questo motivo torno a ricordarvi di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto vi lascio con un video in sovraimpressione in cui vi parlo dei pregi delle mirrorless quindi io non è che non ami questa tecnologia non è che io non la usi a me piace la utilizzo cerco di utilizzarla in maniera consapevole senza affidarmi 100% agli automatismi e in questo video vi parlo di quelle che sono secondo me le cose i punti di forza di queste nuove tecnologie una visione caldamente consigliata e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti